Il 7 ottobre il Consiglio regionale della campagna si riunirà alla presenza del governatore Caldoro. Tra i temi all'ordine del giorno, la proposta del consigliere di Fratelli d'Italia, Luciano Passariello, sulla bonifica e risanamento dei comuni della provincia di Napoli e Caserta della cosiddetta terra dei fuochi. Il prossimo consiglio sarà approvato a questo ordine del giorno, che chiede lo stanziamento di un miliardo di euro al governo regionale, prendendo il danaro dai fondi strutturali, per mettere la parola fine alla problematica dei fondi occorrenti. Con questo importo noi diciamo che si può risolvere il problema delle bonifiche.